Associazioni in campo al fianco dei parroci. Cessaniti è sotto assedio in un clima che ogni giorno diventa sempre più irrespirabile perché, oltre alle lettere minatorie da appesantire oggi la situazione in paese, sono sopraggiunti anche il tentativo di avvelenamento ai danni di Don Felice Panamara e l'inquietante messaggio del gatto morto lasciato sul cofano dell'auto di Don Francesco Pontoriero. Una spirale di minacce contro la quale i cittadini di Cessaniti si rifiutano e reagiscono tentando di restare uniti e facendo gruppo. Da qui l'iniziativa delle associazioni stesse che si sono riunite in comune per organizzare una fiaccolata di solidarietà per dire basta. I sodalizi hanno coinvolto anche Libera e auspicano il coinvolgimento delle massime cariche provinciali. Sono intenzionati ad organizzare una marcia solidale per ribellarsi alla cappa che ne minaccia la libertà, considerato che tra i destinatari delle lettere minatorie, oltre ai sacerdoti, sono finiti anche il vescovo del diocesi Attilio Nostro, lo stesso commissario prefettizio che traghetterà il comune sino alle prossime amministrative, Sergio Raimondo, la presidente dell'associazione culturale Crisalide, Romina Candela. Cosa sta succedendo qui a Cessaniti? Purtroppo sta succedendo una situazione un pochettino critica per il nostro territorio. Un territorio ricco, ricco di artisti e ricco di cultura, solo che è un periodo non bello per noi. A me è arrivata una lettera con minacce, offese, dove c'erano scritti due punti, erano molto chiari. Una si riferiva al fatto di una mia futura candidatura al sindaco, cosa che io non ho mai, mai aspirato. E un'altra a una presidenza della Proloco di Cessaniti. Tra virgolette, questa Proloco è effettivamente uscita questa notizia proprio per il fatto che in un incontro che abbiamo avuto, le associazioni con il commissario, il commissario ha avuto l'idea durante questa riunione di promuovermi come un'ipotetica presidente della Proloco. Quindi bloccare le attività sociali e culturali è uno degli obiettivi. Sì, sì, sì. E soprattutto bloccare anche le attività che abbiamo fatto con le parrocchie, perché questo è l'intento. Ecco, ma il fatto di avere presso di mira proprio i sacerdoti? E questo è una... su questo non le so dire niente, perché sinceramente siamo tutti sconcertati e non le so dire niente. Adesso questa riunione con il commissario prefettizio? Questa riunione è proprio per organizzare una manifestazione contro questi atti, contro questi atti che sono stati fatti verso i sacerdoti e verso anche la mia persona. Infatti abbiamo l'associazione libera anche e tutte le associazioni presenti con il commissario. Volevo dire una cosa ai giovani, che essere liberi è una cosa meravigliosa, è un ideale la libertà. Però per me personalmente è anche un sentimento più dell'amore, perché tra un uomo e una donna l'amore può finire, mentre invece la libertà non finisce mai. E quindi ai giovani voglio dire proprio questo, innamoratevi della libertà, tutto qua.